Musica Oggi con i bambini abbiamo fatto dei laboratori creativi. Nel primo turno abbiamo costruito queste marionette, che sono marionette con materiale riciclabile. Abbiamo utilizzato i tubi della carta igienica, abbiamo utilizzato i tappi di plastica e carta riciclata. I bambini hanno costruito una propria marionetta con l'animale preferito, animale che comunque si trova qui al furlo. Nel secondo turno abbiamo costruito il gufo bubo, un gufo dove abbiamo utilizzato anche lì materiale riciclabile come bottiglie di plastica e carta riciclata. E poi hanno costruito ognuno il proprio gufetto bubo portafortuna. Sono andati via tutti contenti con la speranza che ci siano altri laboratori creativi dove in questi laboratori i bambini hanno dato sfogo alla propria fantasia. Quindi i gufi sono stati fatti di colore blu, verde, viola. Bambini d'età dai 5 ai 9 anni, anche se si sono presentati i bambini più piccoli con l'aiuto dei genitori. Hanno aiutato il bambino a costruire queste marionette, questi gufetti. Alla riserva ci sono diversi tipi di laboratori che riproporremo anche nel corso dell'estate ad agosto. Nel programma ce n'è uno anche per metà agosto, ma durante il corso dell'estate ne proporremo anche altri laboratori estemporanei che lanceremo su Facebook o nel nostro sito. Nel programma ce n'è uno anche per metà agosto, ma per metà agosto, ma per metà agosto. Grazie.